... ... che per il campo due delle quattro squadre che possono ancora giocarsi il titolo non cambiate canale, sta per avere inizio lo spettacolo di questa sfida con il Real Madrid che affronta il Manchester United Sling, siamo pronti per il match d'andata Real Madrid contro Manchester United una sfida tra fuori classe, Pier di quelle che si vivono solo sul grande palcoscenico europeo Real Madrid che oggi testerà le ambizioni europee del nuovo Manchester United in cerca di riscatto ma che potrebbe darci già un'indicazione sulla favorita tante volte le ho legnate a FIFA 18 con il Real, con il mio Manchester speriamo che sia così anche in questa occasione Oh, no! Nooo! 1-0 dunque raccogono i frutti del proprio dominio hanno fatto una cagata per il Real in vantaggio realizzando una delle tante occasioni create ci riparte dunque con il Real Madrid perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altre impresa non facile per quanto si è visto finora RASFORD Palla interessante dello spazio ancora Keller Navas, miracolo Rossa verso il centro grande riflesso del portiere che dice di no ed ecco il fisco dell'arbitro finisce così 2-0